Spunto e fondo americano per l'acquisizione della Magneti Marelli. Come riporta il Sole 24 Ore in un recente articolo, KKR sarebbe subentrato nelle trattative in corso, ma tutto dipenderà dagli accordi dell'ultimo minuto. Dopo la scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che guidò il profondo rinnovamento della Fiat, si continua a pensare a futuro che resta ancora incerto, ma una svolta potrebbe arrivare da qui ai prossimi mesi. In città la Magneti Marelli conta all'incirca 670 dipendenti, non pochi per una realtà che non vive un momento facile per l'occupazione, ma nessuno si sbilancia più di tanto. Anche le stiglie sindacali hanno preferito per il momento mantenere le bocche cuscite, fatta eccezione di una condivisione sulla pagina Facebook della FIOMCGL della provincia dell'Aquila, proprio sulla possibile acquisizione del fondo americano, segno che c'è attenzione sull'argomento. D'altronde il futuro della Marelli non è cosa di poco conto, anche e soprattutto per Sulmona. KKR, gruppo italiano specializzato nella componentistica per il settore auto, è valutato 3,23 miliardi di euro, ma il prezzo della transazione potrebbe essere più alto di questa cifra. Le trattative in corso con FCA potrebbero saltare prima che un accordo definitivo sia raggiunto. Un'intesa si verificherebbe mentre il nuovo CEO di FCA, Michael Malley, è impegnato a rilanciare le attività europee dell'azienda dopo la scomparsa il mese scorso di Sergio Marchionne. Quest'ultimo era concentrato su uno scorporo di magneti Marelli e una sua successiva quotazione entro la fine del 2018 o al massimo l'inizio del 2019. Ma il nuovo manager potrebbe così concentrarsi sui marchi core dell'azienda, a cominciare da quelli di cui si è occupato con successo.